Perché hai due barbe? Questi non sono certo cazzi tuoi. Ho attraversato mezza America per rapinare un'opera pia del cazzo. Ho un socio che ha già pianificato tutto. Quale socio? Sture chiappe! Mamma! Meno come quella fighetta di tuo padre. Non ci lavoro con quella troia velenosa. Avanti ragazzo, sarà come ai vecchi tempi. Vuoi dire un cazzo di perenne incubo? Perché non me l'hai detto? Va bene. Hai un compito, tenere chiusa quella boccaccia da pervertito. Sbrigatevi ragazzi. Mi scusi? Come va? Elfo! Che cazzo ci fa qui? Sei diventato più piccolo. Vaffanculo! È beneficenza. Quando esci da qui, lei rappresenta noi. Aiutate i bambini affamati, pensate anche agli altri oltre che a voi stessi, cazzo. Sì, è benedetto il tuo cuore. Pedocchioso. Lei puzza di whisky, sa le regole ma se ne sta infischiando. Ficcando? In effetti avevo avuto il pensiero di Ficcati. Sono una brava ragazza ma a volte voglio essere cattiva. Dimmi che è zuzza. Scopriamo in un vicolo vicino ai rifiuti, è una cosa piuttosto zuzza. Dimmi che io sono una zuzza! Ok, sei una zuzza. Devo chiederti di moderare il linguaggio quando indossi questo costume. E io invece devo chiederti di ciucciarmi il cazzo. Una volta ho mangiato troppa pancetta di tacchino, non ho fatto la cacca per due settimane, per quattro settimane. Hai tuo figlio? Potevo farne uno migliore. Se non hai sindrome fetale da alcol, allora che cazzo è? Sono pochi gli attori in grado sia di farci morire dalle risate che di farci commuovere. Oggi ho per voi una classifica di attori rari esempi di campioni della comicità americana che nel corso della loro carriera hanno saputo anche farci emozionare e commuovere in ruoli drammatici. E apriamo la nostra classifica con John Goodman al sesto posto. Il simpatico attore lanciato dalla sitcom Pappa e Ciccia, noto pure per la parte del Fred Flintstone in carne e ossa nel film della Hanna Barbera, ha dimostrato che non è solo un attore comico, con le ottime performance in Come al di là della vita, di Scorsese, i cult movie dei fratelli Coen, Il grande le boschi, Fratello dove sei, a proposito di Davis, o il film premio Oscar Argo di Ben Affleck. Al quinto posto c'è Bill Murray, diventato famoso grazie alle commedie come Palla da Golf, Ghostbusters o Rushmore, ha mostrato la sua vena da attore drammatico in Lost in Translation accanto a una giovanissima Scarlett Johansson. Al quarto posto abbiamo messo Zach Kalefianakis, l'ultimo fenomeno della comicità americana consacratosi con la saga Una notte da leoni, ha subito dimostrato di non essere solo un animale da commedia, grazie alle sue interpretazioni molto convincenti in Cinque giorni fuori e addirittura quasi da Oscar in Birdman. Al terzo posto della nostra classifica c'è un attore che raramente viene associato ai ruoli drammatici, Steve Martin, è uno dei nomi storici della comicità americana, il protagonista di Roxanne, Un biglietto in due, Il padre della sposa, Una scatenata d'ozina e tante altre commedie di successo, ci ha concesso pochi ruoli drammatici, ma uno in particolare in Shop Girl, tra l'altro film basato sul libro scritto proprio dallo stesso autore. È straordinario, vi consiglio i libri di Steve Martin. Pochi sanno che oltre ad essere una star del cinema è anche un ottimo scrittore. Al secondo posto c'è un altro attore noto principalmente per le commedie molto leggere come 40 anni vergine e un'impresa da Dio e che recentemente è stato nominato agli Oscar come protagonista di uno dei film più scuri e drammatici dell'annata, Foxcatcher, una storia americana. Si tratta ovviamente di Steve Carell, un vero talento. Al primo posto non potevamo non premiare un'icona del cinema americano, Robin Williams, diventato famoso grazie alle interpretazioni comiche nelle serie Mork e Mindy, nei film Hook, Mrs. Doubtfire, al doppiaggio in Aladdin della Disney e tante tante altre. Robin Williams ci ha regalato anche ruoli drammatici indimenticabili come quello in Will Hunt, Ingenio Ribelle, L'attimo Fuggente oppure Al di là dei sogni, La leggenda del Reppescatore, insomma un vero mito, non relegabile naturalmente a un solo genere. Bene, fatemi sapere se siete d'accordo con la nostra classifica e quali sono secondo voi i migliori ruoli degli attori comici nei film drammatici. Ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao da Valeria.